Nella penombra di questa sala cinematografica, anzi per meglio dire, sala della musica del Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto, prestata al cinema per l'occasione di questo Busseto Music Film Festival, abbiamo oggi la proiezione di un film del nostro territorio, anzi non diciamo assolutamente del nostro territorio, perché sia il regista che lo sceneggiatore e comunque anche interpreti del film stesso, sono tra Parma e provincia. Alla mia destra Emanuele Valla, che è il regista di Dreaming Alaska e Dario D'Ambrosio che è lo sceneggiatore del film. Buonasera. Ho detto bene, non proprio di Parma, ma di? Felino. Entrambi. Entrambi, proprio case attaccate. Case attaccate, quindi a pochi chilometri da Parma e quindi immagino fin da piccoli, amici fin da piccoli. Esatto, quando mi sono trasferito lì ci siamo trovati. Ecco, e già all'età di 13 anni avevate il virus del cinema in corpo. E' detto bene, il virus rende l'idea. Tra i tanti virus che avevamo c'era anche quello del cinema. Perché avete girato qualcosa, 13 anni, che poi ritroviamo dentro Dreaming Alaska, giusto? Esatto. E diciamo che è tutto partito da quell'esperienza. Nel senso che l'aver fatto quel lavoro, cioè noi negli anni ci abbiamo ripensato parecchie volte a questa esperienza che era semplicemente un giocare con la videocamera a creare storie. E era venuto da... Era una mini VHS, cioè il formato era mini VHS, quelle piccoline con l'adattatore, proprio consumer. Sono piccoline per l'epoca, però... Sì, relativamente piccoline per l'epoca. E allora è venuta questa nevicata pazzesca per l'ultimo dell'anno, del 95, e abbiamo detto oh, dobbiamo sfruttare questa nevicata. Abbiamo un prato dietro casa, un campo abbastanza grande, e in una notte io ho la macchina da scrivere, ci siamo inventati questa cosa, e in due giorni vi hanno girato con... bellissimo tornare ai problemi di allora, tipo Dario, di a tua nonna di non lavarti i vestiti per favore, perché domani bisogna continuare da dove si è rimasti invece e li aveva lavati. E quindi abbiamo dovuto aggiungere una scena in cui dicevo, eh, non sono conto, mi sono bagnato, hai qua, c'è un ricambio. Sì, guarda nell'asile. Nell'asile, perché in questo film noi i nomi dei personaggi erano gli stessi, che li avevamo creati sul momento, eravamo i due migliori geologi al mondo, ovviamente, che dovevano praticamente recuperare una pietra miracolosa sotto i ghiacci dell'Alaska, mandati dal Presidente degli Stati Uniti. Tanto per voler fare cose un po' grandi. Sì, insomma, a me siamo stati comunque contaminati, come già quella trama dimostra, dal cinema d'oltreoceano, ma non solo, comunque ovviamente i grandi registi italiani, che furono, che hanno ispirato anche i grandi registi di adesso, di tutto il mondo. Però, insomma, c'è stata questa avventura qua e noi la portiamo nel cuore come se fossimo stati in Alaska, che non siamo stati, ho detto. E neanche questo giorno. Quindi, da piccoli, questa neve, questa nevicata tremenda che è venuta, vi ha fatto, diciamo, come similitudine, vi ha fatto pensare all'Alaska. Esatto. Però, il sogno dell'Alaska, cioè l'Alaska è un po', invece nel vostro film attuale, è un po' una metafora. Esatto. In Alaska diventa un po' il sogno, raggiungere di qualcosa o realizzare un sogno. Esattamente. Quindi, diciamo, in questo caso diventa un'etafora. Quel qualcosa che ognuno di noi, comunque, o in piccola parte, o continuando a sbattere la testa contro il muro, insegue, o ha smesso di seguire, in particolare perché, ovviamente, tra il 96 e questo Dremi in Alaska c'è passata tanta acqua sotto i ponti, nel senso che abbiamo anche fondato una compagnia di musical teatrale, infatti, Gio Sassi, che poi vedrete, che è stato il nostro coreografo. Però, me lo sono anche chiesto perché abbiamo scelto proprio l'Alaska, cioè noi a 13 anni, a dire questo film lo chiameremmo Alaska. Perché in realtà, e da lì è scaturito anche il come ci chiamiamo come produzione Wolf Pictures, è scaturito dal cartoon Balto, che è uscito l'anno prima, praticamente, che narra la storia vera di questo non cane, non lupo, mezzo cane, mezzo lupo, che ha portato le medicine con i cani da slitta, con altri cani da slitta, nella cittadina di nome in Alaska, quindi ci erano molti, ci abbiamo, ci ha colpito perché in questo film il lupo, non cane, non lupo, riceveva questo consiglio da un'oca, che non so se anche quello, però insomma gli diceva, questo, un cane, questo viaggio non lo può fare da solo, ma forse un lupo sì, quindi anche proprio questa cosa di volersi sentire qualcosa di più, sperimentando chiaramente perché nessuno di noi sapeva come sarebbe uscito, c'era una scommessa, l'è stata per tutti quelli che l'hanno preso parte, però quella cosa è rimasta talmente in noi che insomma... perché è il vostro primo lungometraggio, cioè avete avuto nel percorso altre esperienze, forse di corto, sì esatto, un buon di media, di esperienze artistiche anche non cinematografiche, come dicevi, però il primo lungometraggio tra entrambi, esatto, qui passo la palla a dare... quanto ci avete lavorato? Allora, dall'idea iniziale diciamo che inizialmente è stato più una gestazione tra me e l'idea che aveva avuto, guarda caso, in una serata di fine anno del 2009, sapevamo che... Perché ci sono tante serate di fine anno, Sì, casualmente, tutti gli anni ci sono delle serate di fine anno, questa è una cosa incredibile. Nel 2009 ricordo che ci eravamo detti, dobbiamo, prima ci dicevamo, dobbiamo tornare a provare, con le nostre possibilità, a fare cinema, a raccontare delle storie usando il cinema, visto che lo sfizio comunque col teatro, senza volerlo mettere da parte, e comunque ce le avevamo tolti. Allora ci siamo detti, dobbiamo trovare un'idea che sia degna di essere raccontata, dobbiamo trovare un'idea, e ci lasciamo con questo intento. Poi, una sera, quasi casualmente, ho avuto questa idea che ci permetteva di recuperare la storia dei due personaggi dell'Alaska del 96, riproiettarli nel mondo degli adulti, insomma, riprendere le loro storie, che nel frattempo non sono più bambini che giocavano, ma sono diventati rispettivamente un geologo e un regista, e su questo costruire un film. È stato bello riuscire a fare un tributo al primo Alaska, con il nostro primo lungometraggio, ma non era una cosa così scontata, nel senso che noi volevamo veramente avere qualcosa da raccontare, non è che ci siamo molto imposti in questa cosa. Comunque, giusto per darmi da delle tempistiche, dicembre 2009 ho avuto la prima idea, e ho mandato la notte stessa un brogliaccio di soggetto, che era una pagina proprio scritta di volata con Word, ho mandato a lui il giorno successivo, visto che l'idea gli è piaciuta, ho iniziato a scriverla, poi ho avuto uno stallo che è durato praticamente fino ad agosto dell'anno successivo, 2010, che mi ricordo agosto perché l'ho raggiunto sui montagna, proprio in Val di Fassa, dove è ambientato, e gli ho avuto lo sblocco creativo, quindi il fatto di averlo ambientato lì ha un ulteriore valore, e sono andato abbastanza poi speditamente, fino a marzo dell'anno successivo, quando gli ho consegnato il copione, la gestazione del copione è stata quella, poi arrivare a novembre, una ripresa a dicembre, abbiamo fatto 42 giorni effettivi di riprese durante l'anno 2011. E i risultati che avete per adesso, in questa prima vostra produzione, anche perché credo faticosa per fare il cinema, comunque è faticosa, è una produzione comunque indipendente, non credo che abbiate potuto godere di grandi finanziamenti, quindi siete giovanissimi, l'avete fatta con tutto l'entusiasmo, che possono avere la passione. Il nostro motivo di orgoglio è stato proprio di esserci riusciti a arrivare in fondo con le nostre gambe, spedendo un ammontare complessivo che si ha perso intorno ai 10.000 euro tutto di Tasca Nostra, delle pazienti nostre famiglie, nonché morose. Morose, cioè c'è anche lì più di una. Sì, sì, certo. Ma come se con il cinema è la regola questa.